Ben trovati! In questa lezione ti mostrerò come utilizzare la memoria del robot, cioè del mattoncino programmabile, per ricordare dati. In particolare faremo sì che il robot parta, si fermi quando vede un oggetto e poi ritorni esattamente nel punto da cui è partito. Dovrà quindi ricordare il punto in cui è partito. Resta fino in fondo che ti mostrerò come integrare questa nuova capacità di memorizzazione per permettere al robot di recuperare i blocchi colorati e riportarli indietro nel punto esatto in cui è partito. Cominciamo! Ancora una volta utilizzeremo la struttura motrice Spike Prime di cui trovate le istruzioni nell'app sul sito Lego Education. Aggiungeremo questo strumento descritto nelle istruzioni della struttura motrice 2 per poter catturare i blocchi e aggiungeremo un sensore di colore rivolto di lato come vi mostrerò. Quindi adesso vogliamo che il robot vada avanti finché non vede un oggetto colorato e poi torni esattamente nel punto da cui è partito. Nelle lezioni fino a questa non abbiamo avuto bisogno di ricordare niente, cioè di far ricordare niente al robot perché i dati venivano letti consumati nel momento stesso in cui erano prodotti, per lo più dai sensori. Io lo so che te sei lì che scalpiti e vuoi vedere il programma finale, ma non è così che ti ho abituato, no? Io voglio insegnarti le cose a modino. Te lo dico sempre, poi insisto sempre, no? Gioco a modino. Ecco, quindi prima devo spiegarti come si fa a far ricordare le cose a un robot. Quindi dovremo usare le variabili. Ecco uno spiegone imprescindibile, una spiegazione di cui non si può fare a meno. Spiegone imprescindibile, trademark, bello. Un robot, essendo di fatto un computer, ha una memoria. Ecco, quindi tu pensa alle variabili come delle scatoline nella memoria del robot etichettate con un nome inventato da te che possono contenere dati, numeri, stringhe di testo. Una variabile può essere scritta, cioè metti dei dati in questa scatolina, oppure letta, cioè vado a riprendere i dati che sono nella scatolina. Leggere i dati da una variabile non cancella il contenuto della variabile. Una volta scritto lì, il dato ci resta finché non fermo il programma o finché non lo sovrascrivo, cioè finché non lo sostituisco con un altro dato. Facendo un po' fumosa? Vediamola in pratica. In questo esercizio preliminare vogliamo che il robot parta dritto, aspetti di vedere un colore rosso col sensore posizionato di lato e torni indietro al punto esatto in cui è partito. Quindi per ricordare questo punto di partenza dovremo utilizzare una variabile. Cominciamo passo passo per vedere cosa bisogna fare. Come al solito, ormai lo sanno anche i muri, bisogna impostare i motori di movimento e la velocità che a questo punto io imposterei su un 35% o 30% per andare lenti e trovare il blocco con precisione. Poi andiamo a creare una variabile. Eccola qua, scheda variabili. Ovviamente la mia scheda variabili, la mia tavolozza è vuota perché non ne ho create ancora punte. Quindi vado qua, creo una variabile. Variabile la potrei chiamare, un nome che poi mi aiuta a ricordare, start, cioè la posizione di partenza. Ora che ho creato una variabile, compare una istanza, questo comparirà per ogni variabile, un blocco reporter che io posso abilitare e disabilitare nel monitor delle variabili qua, con questo segno di spunta, e soli due blocchi porta start A e cambia start D perché poi è tramite il menu a tendina che io potrò cambiare o portare le variabili a vari valori. Quindi adesso io prendo questo blocco porta A che serve per scrivere nella variabile. Invece il blocco reporter dopo mi servirà per leggere la variabile. Io qui devo salvare la posizione del motore, ma non la posizione assoluta rispetto al marcatore che è sul corpo del motore, che mi viene restituita da questo blocco reporter, ma la posizione relativa del motore. E la posizione relativa del motore, che va oltre 360 gradi e va sotto zero, si trova nella tavolozza estesa altri motori. Quindi io l'ho già abilitata dapprima, ma lo potete attivare così, e nella tavolozza altri motori trovate la posizione relativa del motore che si sta spostando in avanti, che è il motore D. C è montato a specchio dall'altra parte, quindi crescerebbe all'indietro, sarebbe un po' controintuitivo, quindi non ci confondiamo. A questo punto, salvata nella variabile start la posizione iniziale del motore D, io avvio il movimento in avanti. Quindi col blocco movimento avvia in avanti. Poi aspetterò, col blocco attendi fino a quando, dalla tavolozza controllo, che il sensore veda il blocco rosso. Quindi sensori, blocco reporter con gli angoli a punta, perché è un blocco logico. Quando ho visto il blocco rosso, io voglio arrestarmi, quindi tavolozza movimento, arresta movimento. A questo punto, io voglio calcolare quanta strada ho fatto. Per visualizzare meglio questo valore, io creerò una nuova variabile, che poi comparirà qui nelle variabili nel monitor, che serve per debuggare i programmi, cioè per capire se c'è un errore. Voi potete visualizzare qui il valore delle variabili, che è un metodo di debug per scovare gli errori importantissimo, essenziale. Vado di nuovo nella scheda variabili, e adesso vediamo che succede se io aggiungo un'altra variabile. Quindi la chiamerò dist, distanza percorsa. Ok, compare un altro blocco reporter, compare anche qui nel monitor delle variabili, ma vedete che i due blocchi porta e cambia sono rimasti due. Adesso io posso scrivere dentro dist, portando dist, vedete il menu a tendina, dist start, poi mi permette di rinominare e eliminare le variabili, porta dist a cosa? Dovrò fare un calcolo. Dove sono ora, meno dove ero prima. Quindi la differenza tra la strada, percorsa fino adesso, e rispetto a dove sono partito. Per fare una sottrazione, dovrò andare nella tavolozza operatori, dove ci sono tanti operatori, ovvero degli strumenti che operano su due operandi, quindi numeri o testo. Prendere un bel meno, una bella sottrazione, e calcolare, destro duplica, dove sono ora, posizione relativa, meno dove ero prima. Quindi devo andare a leggere la variabile che avevo salvato. Quindi nella scheda variabili, prendo il blocco reporter start, che conterrà il valore vecchio che avevo salvato a questo punto del programma. Abbiamo scritto una variabile e letta in seguito nel programma. Quindi ho memorizzato un dato e l'ho riutilizzato. A questo punto io voglio spostarmi all'indietro, muovi indietro per quanti gradi, muovi indietro per quanti gradi. I gradi sono memorizzati dentro dist. È la differenza in gradi tra dove ero e dove sono, e quindi è quanti gradi dovrò fare all'indietro per poter tornare da dove sono partito. Quindi torno qui nella scheda variabili e prendo la variabile dist che conterrà quanta strada ho fatto. Qui l'ho scritta esplicitamente e poi l'ho letta qui. Avrei potuto mettere questo blocco operatore direttamente qui dentro, si può fare, ma ho voluto esplicitare il valore di dist per poterlo visualizzare qui nel monitor delle variabili e quindi poter fare eventualmente il debug se ci fossero stati problemi. Quindi vi ho fatto vedere che i dati si possono anche consumare direttamente dopo averli prodotti con un'operazione matematica, ma io in questo caso l'ho voluto salvare per avere un elemento di monitoraggio in più. E adesso vediamo che succede. Ora che abbiamo concluso questo esercizio preliminare, passiamo al prossimo. Qualche lezione fa la missione era vai dritto finché non vedi un oggetto colorato, catturalo, torna indietro di 15 cm e rilascialo. Ma adesso noi vogliamo che il robot torni indietro nella posizione esatta in cui è partito. Per questo dobbiamo fargli ricordare la sua posizione iniziale. Quindi con poche modifiche al programma di qualche lezione fa vediamo come implementare quanto appena detto. Ora vediamo come utilizzare quello che abbiamo imparato proprio adesso per modificare il programma di qualche lezione fa in cui abbiamo trovato e recuperato un blocco rosso. Però tornavamo indietro di 15 cm fissi. Eccolo qua. Adesso vogliamo tornare esattamente dove siamo partiti. Quindi cosa fare adesso? Dopo aver aperto la gabbia qua, prima di partire in avanti, andremo a salvare in una variabile dove siamo adesso. Quindi variabili. Crea una variabile, chiamerò start come prima. Già che ci siamo ne crea un'altra che si chiama dist, distanza percorsa. e porto start a estensione altri motori attivabile da qui altri motori posizione relativa del motore D che è quello che cresce in maniera positiva andando in avanti. Poi avvio il movimento. Attendo fino a quando il colore è rosso arresto il movimento e riproduco un suon segnale acustico. A questo punto a questo punto farò il calcolo della distanza percorsa. Quindi andrò alle variabili salvo dentro distanza la sottrazione tra dove sono ora duplica e dove ero prima che è salvato nella variabile start. Ecco fatto. Ora attenzione perché arrivato qua io devo fare la manovra per prendere il mattoncino quindi andrò in avanti di 6 cm eccetera. Quindi farò altra strada che non ho considerato quindi dovremo tenerne conto in seguito. Adesso per tornare indietro dove sono partito invece di spostarmi per 15 cm dovrò spostarmi di tot gradi quanti gradi? Questo numero di gradi contenuto nella variabile dist perché questa distanza ricordatevi l'abbiamo calcolata come sottrazione di due angoli quindi non è una distanza in centimetri è una distanza in gradi. Quindi torniamo indietro andando avanti in questo caso perché abbiamo ruotato verso la direzione da cui siamo venuti per dist gradi ricordiamoci che siamo andati avanti altri 6 cm quindi qui dovrò andare avanti per altri 6 cm e poi aprirò la gabbia per rilasciare il blocco vediamo come funziona lezione succosissima adesso sai come ricordare i dati e potrai creare dei programmi sempre più complessi e dinamici che intendo per dinamici con dei comportamenti che dipendono dal contesto in cui si trova il robot dalle cose che sono successe in quel momento e non prefissate nel programma che risolvono sfide anche di fronte ai eventi imprevisti come il cambiamento della posizione di un blocco o il partire da una posizione piuttosto che un'altra queste sono tutte cose importantissime specialmente se vuoi partecipare alle gare di robotica dai pigia forte il tasto mi piace non perderti il prossimo video in cui ti mostrerò come far fare al tuo robot delle manovre precisissime usando anche un po' di matematica ma di quella buona resta giovane gioca a modino ciao 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 ciao